Un paio di giorni per godersi la tonificante vittoria sul Livorno, poi sui tifosi della Virtus Lanciano sono ripiombate le preoccupazioni che alleggiavano prima dell'ultimo match dell'anno. Interrogative ancora più inquietanti alla luce dei rumors piuttosto insistenti che parlano dell'arrivo di una nuova penalizzazione per problemi amministrativo contabili dopo il meno uno subito nelle scorse settimane dal Tribunale federale per la mancata attestazione del pagamento dell'IVA per l'anno 2012. I tre punti con Livorno hanno riaperto uno spiraglio salvezza ma la squadra va adeguatamente rinforzata. Invece la proprietà nelle ultime ore per bocca del vicepresidente Guglielmo Maio ha fatto sapere che il mercato sarà fatto in base al bilancio tenendo d'occhio i conti e nessun giocatore è considerato incedibile. Tutto questo va a corroborare quelle voci che già si erano fatte insistenti nei giorni scorsi. La Virtus perderà il suo giocatore di maggiore rendimento, l'uomo su cui D'Aversa si è appoggiato per non compromettere le speranze salvezza. Già nel girone in andata Antonio Piccolo decisivo con i suoi otto gol. L'attaccante è in scadenza di contratto e piuttosto che perderlo senza poter batter ciglio la società potrebbe farlo partire subito monetizzando. Sa di beffa la situazione di Guido Marilungo, il centravanti di proprietà dell'Atalanta dopo un lento e difficile recupero dal grave infortunio finalmente si era sbloccato domenica scorsa con la doppietta al Livorno. Sul più bello però Marilungo andrà via e col placet dell'Atalanta finirà al Perugia dove ritroverà Bisoli che lo ha allenato a Cesena. Anche il DS perugino Goretti è uscito allo scoperto sulla trattativa. Un colpo al cuore per gli sportivi frentani è sapere che anche il capitano con la C maiuscola Carlo Mamarella potrebbe fare le valigie nel corso della sua ottava stagione in Frentania. Al difensore dal sinistro Fatato è fortemente interessato Lascoli e i contatti sono ben avviati. Anche l'Avellino guarda Lanciano per rinforzarsi, situazione avanzata per il difensore Raffaele Pucino che andrebbe via dopo metà stagione. Destinazione Irpina anche per Luca Crecco che al contrario di Pucino ha giocato molto poco. I due peraltro non sono di proprietà della Virtus ma di Chievo e Lazio rispettivamente. Voci di mercato anche intorno a Fabrizio Paghera che come piccolo era in procento di non andare via già in estate. Il centrocampista di proprietà sarebbe un'altra opportunità di fare cassa per il soldatizio frentano ma costituirebbe una perdita molto grave sotto il profilo tecnico.